Lo sviluppo delle aree interne rappresenta una priorità della Regione Abruzzo ed il progetto Dote di Comunità è stata un'iniziativa mirata a creare un percorso per favorire la permanenza della popolazione creando opportunità di sviluppo economico ed occupazionale. All'Ama dei Peligni sono stati resi noti i risultati del progetto inserito nella programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 che ha visto una sinergia tra la Regione Abruzzo e il Comune di Monte Nero Domo capofila di 33 comuni del Basso Sangro Trigno. All'evento è intervenuto l'assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimale che ha fatto riferimenti alla strategia per le aree interne che la Regione intende portare avanti nella programmazione 2021-2027. Antonio Tamburrino, referente area interna Basso Sangro Trigno, com'è nato questo progetto? Un progetto, una sfida. Noi come area siamo stati individuati dal Ministero e dalla Regione come area Basso Sangro Trigno, abbiamo colto questa sfida e abbiamo vinto la selezione perché in fondo siamo stati individuati dalla Regione Abruzzo e dal Comitato delle aree interne come la prima area prototipo che dovesse essere finanziata e quindi decollare. E evidentemente l'abbiamo scritta bene, abbiamo rappresentato quelle che erano le esigenze, quelle che erano le prospettive future, ma sicuramente l'abbiamo fatto con professionalità acquisita sul campo perché noi abbiamo vissuto la storia dei pit come area, abbiamo vissuto i patti territoriali, abbiamo vissuto il GAL. Quindi avevamo un'esperienza dietro che ci ha portato evidentemente a ben illustrare quello che è il futuro della nostra area. Un progetto che nonostante le difficoltà legate alla pandemia e lo slittamento delle diverse fasi ha colto gli obiettivi grazie anche ad un'azione di sistema come ha sottolineato Patrizia Monacelli, coordinatrice del progetto. Oggi registriamo e divulghiamo dei risultati, abbiamo tirato su 4 nuove imprese che hanno beneficiato del finanziamento ex microcredito della Regione Abruzzo con avviso pubblico, abbiamo in realtà favorito l'inserimento lavorativo di tanti destinatari, quasi 58, in realtà molti a tempo indeterminato. E anche questi destinatari hanno in parte beneficiato dell'incentivo ai datori di lavoro per l'occupazione, sempre azione diretta della Regione Abruzzo. È un progetto estremamente interessante proprio per la sua sicuramente complessità ma per essere un'azione di sistema. Siamo felici di aver contribuito in piccola parte alla strategia Basso Sangro Trigno perché è all'interno di questa che ci muoviamo e quindi in qualche maniera possiamo essere soddisfatti di quanto realizzato, soprattutto del lavoro fatto per i destinatari.